Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante e personaggio televisivo italiana. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso Sanremo Lab, nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo nella categoria nuove proposte al 59esimo Festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Ma cosa è successo alla cantante? Perché Arisa è disperata? E cosa vuole nascondere? E, soprattutto, cosa vorrebbe nascondere? Il video non offre nessun dettaglio che possa farci capire qualcosa in più. Nelle due stories successive Arisa posta un reel creato per lei dai suoi fan, e poi uno scatto del backstage dello shooting di cui è protagonista in questi giorni. Probabilmente non sarà accaduto nulla per cui preoccuparsi. Ma ormai la curiosità è tanta, e probabilmente l'obiettivo era proprio questo. Grazie a tutti.